La puntata di oggi interesserà sempre il museo della collegiata di Castellarquato, andandosi però a focalizzare su un'importante croce d'epoca romanica. Questo crocifisso d'epoca venne rinvenuto da Giulio Ulisse Arata durante i lavori di restauro che interessarono l'edificio annesso alla chiesa di Vigolo Marchese che comunemente viene identificato come battistero. Si tratta di un'opera molto importante che venne trasferita e ancora oggi è conservata presso il museo della collegiata di Castellarquato. Molto probabilmente l'opera in questione rappresenta un caso di croce terminale ovvero la croce che veniva posta a chiusura dei lavori una volta che l'edificio sacro veniva completato e dalle fonti storiche riusciamo ad apprendere che l'edificio denominato battistero venne terminato finito nel 1106 quindi quest'opera potrebbe avere una datazione che ruota intorno a questo periodo. Un'opera molto importante perché richiama un altro capolavoro d'arte romanica che è conservato presso il Duomo di Parma ovvero la deposizione della croce di Benedetto Antelami datato 1178. In entrambe queste opere riusciamo ad apprezzare quello che è il senso estetico romanico impostato sulla sciuttezza, sull'essenzialità delle linee e delle forme. Un'essenzialità che però lascia spazio ad un'estrema e molto profonda espressività come nel caso delle linee del costato che sono incise, profonde e che ancora oggi lasciano in un certo qual modo spazio a riflessioni sulla figura del Cristo e sul momento della morte del Cristo in croce. Ed inoltre sono molto caratterizzanti le braccia così allungate, quindi questi allungamenti anatomici che riusciamo a riscontrare non soltanto in quest'opera ma anche nella deposizione di Benedetto Antelami. È una testimonianza questa di Castellarquato proveniente da Vigolo Marchese molto importante per il nostro territorio e soprattutto per la comprensione dell'importanza e del ruolo del complesso di Vigolo Marchese all'interno della vita artistica romanica emiliana.